Ciao ragazzi, sono Nance Jr. Benvenuti a questo nuovo video fatto apposta per Halloween, lo speciale di Halloween diciamo in cui provo Eri o Iri o come si pronuncia in qualsiasi modo, non mi interessa bene, ho saltato l'introduzione però perché c'è qualche problema di caricamento comunque non ha niente di che, sono iniziato, ho iniziato qua e sono partito qui allora, gain entry, ci interessa? Non credo uh si corre, allora è un gioco gratuito, è un gioco gratuito, si scarica, vi metto il link del download qua sotto bisogna registrarsi al coso loro, al sito qui, ma è veramente molto bello per essere gratuito cos'è? E' prendibile? ah con E spray, eeeh eeeh si scrive? oh si scrive oh yeah oh yeah allora, non so che cosa dobbiamo fare oh eeeh hold C ok C per abbassarci allora, per abbassarci giustamente che battutone eh allora, eeeh è gratuito, innanzitutto mi sembra già abbastanza bello veramente fatto bene per essere gratis non so se è indie o no sinceramente ma non non credo mi sembra mi sembrava una una cosa abbastanza fatta bene allora press E ah, oh che oddio oddio no, dove devo andare? fermo eeeh 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 che è che è bambino che piange che è gatto aaa 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 dove vado dove vado qua se corre uh guardate che corsa left click to tag where you've been ah veniamo qua vabbè sto andato di qua oddio non sono brutta mamma mia che brutta cosa ah oh è abbastanza fastidioso sto suono allora aaa oh oddio che cazzo era come si fa? via oddio già iniziamo male allora ah per cui già ci hanno fatto una tag vedi o na o na race io ci taggo sopra io zio taggo meglio di te oh zio ue tieeeh faccio un po' di ombreggiatura qua intorno a te oh ue zio bella guarda che te faccio sangue che schifo che cos'è oddio vabbè se non la voglio vedere via ha aperto la porta c'è un attimo un calo di ferrimerite qui ma non fa niente non ce ne frega niente allora eeeh ma si ma fa oh eh ma facciamoci una bella tag facciamoci ah yes nans 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 j nans j sono stato qua was here era troppo lungo da scrivere quindi accontentatevi allora corriamo alla velocità oi io vado dritto ho sparato oh c'è che cos'è un cadavere no che è ah via 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 oh topi che è un gatto no oh che ho preso un gatto ho preso un gatto prigioniero c'è un inventario o qualcosa qua che cos'è qua cosa c'è qui examine stash to lay france whelks chill around a france via via non mi interessa più non vedo niente non vedo niente oddio allora già va un pochino a scattino non so per quale motivo allora bene allora continuiamo ah udo pipistrelli ah ok da dove vengono dove sono venuti oh altri basta ah allora sono lì wey che facete che state a farla fermi ma loro vengono da fuori posso uscire anch'io quindi da qui andiamo avanti facciamo una bella freccia che ci indica che siamo venuti mamma mia che schifo e lo capirò non mi piace questo calo di frame ogni tanto eh oddio no lobby key key ok dai è un altro gatto oh prendiamo pure questo eh c'è un dubbio chi non va in giro per le prigioni a prendere a raccogliere gatti morti no oddio io mi giro a raccogliere gatti morti non l'hai mai tu che guardi non l'hai mai fatto vergognati se non l'hai mai fatto no no oddio questa è la sala comandi dove ho visto dove ho visto il mostro prima oddio no findings via 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 c'è qualche cosa da aprire qua apri 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 qualche porta apri dai master key master key master key master key master key master key no master key master key master key master 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 chef master chief master master basta basta si sente niente ah barrel allora qui qui allora qua no ci rimane questa strada qui si apre si apre eh non mi piace non mi piace questa situazione com'è trigger ring oddio è chiusa oddio che è questo rumore aah oddio oddio che cos'è oddio che cos'è quella bestia qua mi stasse qui oddio oddio me ne scordo oddio oddio passaggio oddio oddio passaggio oh mamma dove sto dove sto andando dove sto andando oddio oh mamma oddio dove sei esci non ci staccavi niente oh madre via 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 corri stupido corri stronzo qua oh madre stasi qui eccola eccola oddio oddio dove vado dove vado qua oddio oh madonna oddio ti inseguo vieni qui sfidami sfidami ma scherzavo 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 attiva tutto via 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 attiva tutto oddio una una qualcosa qualcosa qualsiasi cosa sali 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 oddio 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 dove Oh madonna Oh Cosa Oddio Bene Manteniamo la calma no Perché Cosa c'è da Oddio Cosa c'è da Mamma mia che tu sei brutto Cosa c'è da preoccupare Dovrei saltare Vai Tre Mamma mia Quattro Tre Due Quattro Tre Vai Tutto questo per prendere solo il gatto Salta ancora Salta ancora Di nuovo Di nuovo Abbiamo preso la chiave Abbiamo preso la chiave Giusto Quindi via Ah Sei Non mi prenderai mai Pezzente Se evitassi di andarmi così tanto a scatti Magari La cosa sarebbe agevolata Mamma mia dove vado Qua Oh mio dio Qui Che cos'è sto posto Oddio qua mi trova Via 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 Oddio qua mi trova Oddio 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 Oh mamma mia Che faccio Che devo fare Non so in che direzione andare Mi sono perso Dovrei aspettare di vederlo Almeno in uno dei due lati Va vaffanculo Ma vaffanculo qua Dritto 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 Oddio Sono tornato al punto di portenza Apriti E noi Eh noi se io torno qui Oh madonna Oh madonna Se io torno lì Adesso ho un problema E c'è turno Vado incontro alla morte Cioè di là Cioè di là Cioè di là non c'è niente Cioè di là non c'è niente Cioè di là non c'è niente no Madonna mia Oddio Sto andando incontro alla morte No Sto andando incontro alla morte No Niente morte Qua 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 Cazzo è chiuso E dove vado Andiamo qui Oh mamma Curi curi Tunnel Va bene va bene il tunnel Porca troia Oddio Che cosa E' brutto Oddio Non c'è Non c'è Non c'è E' sparito Non è che è morto Non è che è morto Gli ho rubato i gatti I gatti gli davano energia Io gli ho rubato i gatti E lui è morto Basta 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 Attiva tutto Attiva tutto Attiva tutto Attiva tutto Che c'ha da fare qua Dai tocca entrare da qualche parte qui Oh mamma Che è sto rumore Oh mio dio Sì Aperto 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 Attiva tutto Attiva tutto Attiva tutto Uh Abbiamo attivato una luce Una Una su tre Mi sa che alla terza Alla terza possiamo Andare via no Almeno spero Oh mio dio C'ho una paura C'ho paura Va bene Niente ragazzi Per il primo episodio Un finale di Halloween Diciamo E Bene Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Da Nance Junior